Distratto, cosa fai? Un cordiale benvenuto alle previsioni del tempo. Iniziamo con la letterina di un liceo di Rovereto. Si. Strano, pensavo che Rovereto era stata abolita tanto, tanto, tanto. Perché dovevano abolire? Colonello dalla cintola, mi scrivo. Eh. Come siete arrivato a leggere il meteo in tv? Eh, eh! Grazie per questa bellissima domanda. Sì, ma risponda! Ho iniziato molti anni fa con il gioco delle coppie. Ma cosa c'è? Poi sono passato al porno. Ma cosa c'è? Sette anni, il tempo di capire che non faceva per me. Cioè, dopo sette anni... Ed ora eccomi qua, in televisione. Beh, carriera politica. Pimpante, come si dice dalle parti mie. Pimpante. Ma tu dove sei? Che tradotto in italiano. No, si dice uguale in italiano. Pimpante, sì. Ma cosa sta prendendo? Traduci pimpante. Ma senta! Supposta. Ma no! Tesori. Ed eccomi qua, supposta. E ora il tempo. Variabile su tutta l'Italia. Sì, sappiamo che... Bello qua brutto. Qua bello, bello, brutto, 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 brutto. Col tempo è tutto. Sì, grazie. Un buon proseguo con i nostri programmi affinché possi e vaste per correre una bella serata. Speriamo. Grazie mille. Beh, lui i progetti per la serata ce li ha, eh? Anche lei, secondo me. Ma no! Che piobbi! Mi sono detto? Tanto tuono che pioggi. Ah, credo che pioggi. Ma dove sono? Diciamo che i sette anni di carriera nel cinema... Qualcosa ha lasciato. E qualche numero di telefono gli è rimasto. Ecco. Ciao a tutti, buon weekend! Buon weekend!